Sempre più piste ciclabili per veronesi e non solo, anche per i turisti. Tra un anno circa inizieranno i lavori per un percorso ciclopedonale di collegamento tra la pista che scende dal Brennero con quella del Chievo, un tratto di 3,5 km in gran parte immersi nel verde delle campagne lungo il canale San Giovanni. Poi toccherà l'altro tratto che arriva fino in stazione. L'abbiamo presentata l'altro giorno con un contributo molto importante della Regione Veneto. Sono due pezzi di piste ciclabili di circa 5,5 km, la somma dei due. Sono due pezzi importanti, l'uno perché lega praticamente la nostra città in maniera ancora più forte alla ciclovia del sole che scende dalla Germania, scende dal nord, e quindi importantissima dal punto di vista del cicloturismo che sta prendendo piede in modo importante. L'altra invece è più a livello cittadino ma altrettanto importante perché lega la parte ovest della città con Corso Porta Nuova e quindi permette di arrivare in sicurezza in bicicletta dai quartieri del Savalle, di Borgo Milano, del villaggio verso il centro e a quel punto poi arrivando in stazione si snoda anche con i collegamenti con le altre piste ciclabili della città. Questo io lo ritengo molto importante perché era uno dei punti fondamentali per la mobilità sostenibile del nostro programma su cui stiamo lavorando e un intervento di 2 milioni di euro, un intervento molto importante. Molto favorevole al progetto non può che essere anche la FIAB Amici della Bicicletta che partecipa da mesi con altre realtà del settore ad un tavolo di collaborazione dell'amministrazione comunale per organizzare percorsi e progetti che favoriscono l'utilizzo sempre maggiore della bicicletta. C'è un dialogo molto proficuo che è partito. Bisogna dire che negli ultimi anni il clima è cambiato in questo senso, c'è molta più sensibilità sulla mobilità sostenibile. Molti progetti sono in cantiere, ad esempio oltre a quelli di cui abbiamo parlato c'è la ciclabile del Saval che andrà dal Saval a Piazza Bra passando da San Zeno e quella è già stata finanziata dal governo e il comune di Verona ci metterà del suo e poi c'è anche un altro progetto importante che noi teniamo particolarmente che è quello di poter andare da Porta Palio fino a Piazza Bra. Qua ci sono dei colloqui già in stato molto avanzato con il comune e ci auguriamo che si concretiszi presto. Non è mai sufficiente richiamo l'attenzione per un uso delle bici più diffuso sia per lavoro che per il tempo libero, a beneficiarne per motivi diversi e sempre la salute dell'uomo. Tanto per cominciare tutto il mondo medico sottolinea quanto i problemi legati all'obesità, alla sedentarietà e anche al problema dell'inquinamento sono gravissimi e quindi questo è un dato di fatto. Poi abbiamo l'irrazionalità del muoversi un'automobile su distanze brevissime di un chilometro, un chilometro e mezzo. La bicicletta è più veloce, costa meno e direi che migliora soprattutto la qualità della vita cittadina in quanto che si sposta in bici, poi anche la possibilità di fermarsi facilmente, fare la spesa al negozio di vicinato, è tutto un cambio di logica, quello che abbiamo fatto fino a poche decine di anni fa.